E non può partire subito? Che fretta c'è? E' pieno di cocoriti qui. Cosa? Sì, i cocoriti, quegli uccelli che danno fastidio alle straniere. Ah, i papagalli. Ma non stia lì a leggere il giornale, io ho fretta. Allora, parte quest'autobus? Come vuole lei? Dove andiamo? Vorrei visitare Roma. Da che parte cominciamo? Mi piacerebbe vedere Fontana di Trevi. Ci passa? Ce lo facciamo passare? Ma lei curva sempre così? Solo quando sono in curva. Ma non la guarda la strada? Certo che la guardo. La vedo riflessa nei suoi occhi. Davvero? E come no. Provi a chiuderli. Ha visto? Ma non hai visto che hai combinato? è colpa mia che ho chiuso gli occhi. È vero, è colpa sua. Ma come? Chiude gli occhi lei e vai a sbattere te? Scendi giù, vieni a vedere che hai fatto, va. Potevi stare più attento, no? E che roba, oh. Ci vorranno perlomeno 50.000 lire per aggiustare questa macchina, hai capito? Tieni. Ma queste sono 70.000. Ti offro il pranzo. E perché? Perché è successa una cosa fantastica. Ma che cosa è successo? Mi sono innamorato. Di me? No, di lei. Ma perché parli così piano? Perché lei non lo sa. Puoi che glielo dica io? No, tu sei troppo brutto. Ciao. Ecco, ci siamo. Questa è la fontana di Trevi. Ma è stupenda. Tu sei più stupenda. Grazie. Se tu vuoi ritornare a Roma, devi gettare una moneta qui dentro. Davvero? E chi l'ha detto? L'ho detto io adesso. Ah, a proposito, mi chiamo Barnaba. E tu? Cristina. È un bel nome. Un nome da regina. Sei regina tu? Non ancora. Voglio proprio vedere se è vero quello che hai detto. Hai da cambiarmi un Copax? Cos'è? Un Copax. Ma è d'oro? Quanto vale? 800.000. Me lo cambi? Non ho spiccioli al momento. E allora lo butto nella fontana. Così ritorno a Roma. Ma c'è una moneta d'oro? Una moneta d'oro? Sì. Sì, ma io. E che sprecona. Ma bastava una monetina. E vuol dire che ci tornerò molte volte? Beh, certo. Quando torneremo dal viaggio di nozze. Dai, non scherzare. Andiamo? Sai una cosa? Io non scherzo mai. Appena ti ho vista ho deciso che noi ci saremmo sposati. Cambia discorso. Per adesso. Che altro vuoi vedere di Roma?